Ragazzi, allora buonasera a tutti, notte di Champions League nella giornata nella quale sono venute fuori le notizie della Superlega ma l'affronteremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi quando usciranno cose ufficiali ovviamente il Milan oggi praticamente diciamo con la sconfitta contro il Porto ha un piede e mezzo fuori dalla Champions League detto questo, io oggi insieme a Luca Tottenham in mia live abbiamo fatto un po' i pronostici così velocemente ne abbiamo sbagliati tanti però qualcuno sono andato veramente vicino di un soffio al di là del risultato esatto che vabbè là è un gioco però i segni ovviamente allora Bruges City avevo messo 0-2, City ha dilagato, ha vinto 1-5 Besiktas Sporting Lisbona 1-0 per Besiktas, wow proprio l'ho sbagliata, ha vinto lo Sporting per 4-1, PSG e Lipsy avevo messo 1-1 quindi X pareggio e Lipsy è andato vicino all'impresa piccola parentesi per me, il PSG continua a non essere una squadra che può ambire alla Champions League poi può capitare come il Chelsea l'anno scorso, come il PSG due anni fa e come il PSG l'anno scorso che becca magari la squadra più forte contro il Bayern Monaco ad esempio e becca fatalità un Bayern Monaco senza Lewandowski, allora tutto può succedere bene, poi Porto-Minan ho messo 2-1 per il Porto quindi 1, risultato esatto ovviamente non azzeccato però comunque il segno della vittoria del Porto sì, Atletico Madrid-Liverpool ho messo 1-4 e qua è stata una partita che non mi ricordavo che soprattutto l'Atletico Madrid c'era riposato perché lì in Spagna rinviano le partite quando hai sudamericani che tornano il giorno prima o il giorno stesso, non come Napoli-Juventus o Juventus-Roma perché poi Juventus-Roma abbiamo vinto comunque, però sicuramente saremmo arrivati più riposati per la partita di domani e soprattutto in Napoli-Juventus quando siamo stati costretti ad avere fuori 6 giocatori, ok? tra Chiesa e i 5 sudamericani non sono giustificazioni, però vorrò vedere se per la Coppa d'Africa il Napoli riuscirà a far rinviare la partita facendoci mettere magari la Supercoppa italiana il giorno prima anche se, come dicono, il 22 dicembre in teoria hanno già detto che si giocherà già in Arabia Suddita stanno già facendo passare messaggio che si giocherà il 22 dicembre in Arabia Suddita e qua, io ripeto, è il post partita di quando si gioca in quei paesi lì non li farà uscire, non lo farà uscire quindi, e qualora si dovesse giocare il 5 gennaio sarà semplicemente per rinviare Napoli-Juventus Juventus-Napoli, quindi giusto per farvi capire questo l'ha riportato Mirko Nicolino comunque detto questo, andiamo avanti Ajax-Borussia Dortmund, l'ho detto io ho 2-1 per l'Ajax ha vinto 4-0 il risultato non ho aspettato, il segno l'ho azzeccato Shakhtar del Madrid, l'ho messo 1-2 anche qua, 0-1-5, 0-5, quanto ho fatto vabbè e poi l'Inter-Sheriff, qua ho usato, ho detto 1-1 alla fine ha vinto l'Inter 3-1, però comunque lo Sheriff ha fatto l'1-1 vabbè, le partite di domani vedremo comunque, io ho visto Liverpool, attratti contro il Liverpool e Porto-Milan prima cosa noi ci lamentiamo giustamente degli arbitraggi nostri io devo essere sincero gli arbitri europei fanno letteralmente cagare poi ci sono molti arbitri che hanno questa presunzione qui in Italia, come in Europa di essere chissà che cazzo siete cosa cazzo siete che siete fortunati che giocate che arbitrate in Champions League o in Serie A perché se foste in terza categoria, seconda categoria non so i vostri comportamenti come sarebbero presi quindi giusto per dirvi, vabbè con Galdai questo attratti come di Liverpool due rigori sono stati fischiati uno poi levato due contatti due spalla contro spalla praticamente uno è stato dato al Liverpool l'altro è stato dato prima e poi levato al VAR dallo stesso arbitro che poi io ripeto gli attaccanti perché lì avrebbe commesso fallo Iota io gli attaccanti ho sempre detto in area di rigore propria non devono mai esserci vabbè e lo dico da ex attaccante però al diare questo allora devono spiegarmi se il regolamento europeo è uguale a quello italiano perché quello in Italia dice che l'arbitro non può giudicare al VAR l'entità di un tocco l'entità di una spinta l'entità di una trattenuta quindi rimane la prima decisione sono stati due contatti spalla a spalla uno l'ha fischiato non ha neanche consultato il VAR l'altro invece ha consultato il VAR ed è andato addirittura a vederlo negando il rigore all'attratto a Comadrid poi altra cosa espulsione Griezmann fallo di Griezmann gioco pericoloso che per me anche se è involontario però sono da rosso quegli interventi lì perché è un po' come quando tu vai per contrastare il giocatore avversario questo qua ti sposta la palla all'ultimo diciamo tu scivoli entri ai piedi uniti fai un fallo e vieni espulso non è volontario però è pericoloso vigoria sproporzionata Griezmann ha alzato il piede quello non è un gioco pericoloso perché prende la testa se prende gli occhi è finita per il giocatore che prende il calcio Griezmann viene siccome è giustamente espulso anche se sarei per mettere questa cazzo di espulsione a tempo così ok lo butti fuori un quarto d'ora faccio un esempio ma non penalizzi una squadra per un intervento non volontario per un'intera partita vabbè ho un intero tempo d'altra parte stavo vedendo Porto-Milan Ibrahimovic ha fatto lo stesso intervento lo stesso intervento e Flick come cazzo si chiama l'ha monito adesso io vorrei sapere con che coerenza con che cazzo di coerenza e di coraggio poi vi spiegate alla riunione degli arbitri io vorrei veramente in questi casi avere diciamo delle dichiarazioni degli arbitri io non voglio metterli a disagio perché ci sta a sbagliare ma vorrei sapere anche dal designatore dal capo arbitri dell'UEFA come giustifica queste diciamo prese di posizioni diverse per episodi simili sia per quanto riguarda i due rigori in Atletico Madrid del Liverpool uno dato e l'altro allevato sia per quanto riguarda due episodi in due partite differenti nello stesso girone io vorrei sapere questa cosa qui poi detto questo vabbè questa è una piccola parentesi una piccola grande parentesi per quanto riguarda il resto io ho visto un Liverpool l'ho detto ieri io vedo il Bayern Monaco più in condizione adesso ho visto un Liverpool che soffre poi sappiamo benissimo che Simeone è bravo a far giocare male gli avversari però bisogna dire anche che comunque l'Atletico Madrid aveva giorni di riposo in più una settimana di fatto il Liverpool ha giocato ha vinto 5-0 sabato però ha giocato l'Atletico Madrid no quindi questo siccome ha pesato un po' non è una giustificazione però ha pesato di sicuro siccome qua siamo nell'Unione Europea però ognuno fa il cazzo che vuole a livello sportivo a livello decisionale e quant'altro bella questa Unione Europea vabbè comunque a direi questo perché alla fine se nell'Unione Europea ci dovrebbe essere una pressione fiscale simile un costo di vita simile e quant'altro perché se no non è un cazzo di unito qua perché poi vai a penalizzare chi ha la pressione fiscale del 60% vi faccio un esempio discorso non solo di calciatori ma anche di compravendita di merce e quant'altro in Italia o di un'azienda o un imprenditore che viene investito in Italia qui in Italia 60% di pressione fiscale 50% e da altre parti in Inghilterra magari a 33% in Germania a 33% 35% è normale che poi vada ad altre parti e siamo in Inghilterra l'Inghilterra no non è nell'Unione Europea però la Germania si quindi giusto per farvi capire però comunque chiusa parentesi è un discorso molto più complicato a livello non calcistico però io ho visto appunto questa partita qui in contemporanea con Porto Milan il Porto gioca bene tecnicamente anche se sbaglia tanto il Milan ragazzi io l'avevo detto oggi da spacca quando dicevano molti che avrebbe vinto il Milan ho detto attenzione perché l'Europa non è l'Italia cioè in Europa se anche se ti manca mezzo giocatore anche se fai una mezza stronzata e se vai sotto in Europa non succede come è successo il Milan sabato contro il Verona li perdi contro il Porto io ero ho detto che avrebbe perso il Milan secondo me ha perso poi ci sta a sbagliare alcune cose ma non sono giochi però al di là di tutto come logica per me il Milan l'ho detto non avrebbe avuto vita facile oggi a Porto dato che erano i milanisti che si sfottevano l'anno scorso contro il Porto vabbè comunque a dire di questo non allenatore però un allenatore esordiente eccetera comunque a dire di questo il Milan per me è quasi fuori è quasi fuori quantomeno dalla Champions non so se anche dall'Europa League però tra i quanti dei Liverpool credo che siano più avanti più avanti e vabbè comunque per quanto riguarda appunto attretti e contro di Liverpool io ho visto comunque Simeone un Simeone che è bravo in gabbiale gli avversari quant'altro un Liverpool l'ho visto sbagliato cioè dopo lo 0-2 mi sembra cioè sembrava un po' la Juventus oggi Liverpool ha fatto lo 0-2 e dopo 10 minuti un quarto d'ora ha tirato i remi in barca poi ha vinto comunque ha vinto comunque ma ha vinto comunque perché poi è stato in 11 contro 10 c'è stato quell'episodio del giocatore dell'atleta che è stato stupido perché il pallone sta andando al portiere che cazzo serve fare quel fallo lì comunque io vedo comunque tanti giocatori che guardano il pallone e guardano poco dov'è il proprio giocatore da marcare o comunque i giocatori avversari questa cosa è una cosa grave secondo me comunque al di là di questo il Liverpool secondo me rimane la seconda candidata per vincere il Champions League il Bayern Monaco la prima poi io oggi ho fatto una live che non si sa mai non si sa mai non si sa mai domani saremo per la prima volta delle due volte quest'anno San Pietroburgo vabbè comunque al di là di questa al di là di queste cose qua io ripeto ho visto anche City tra l'altro grande gol di Jo no vabbè non è un gran gol però comunque Jo Cansello ragazzi fa tutto io rimpiangerò sempre lo scambio Cansello-Danilo perché molti dicono che non è un terzino ma Arnold se lo guardate anche Arnold fa delle stronzate a livello difensivo io preferisco sempre avere un terzino Zidane si è inventato Vasquez terzino Asamoah Asamoah non era un terzino è stato portato a terzino ma ha fatto l'esterno attacco alla mezzala e poi l'ala di centrocampo è stato portato a terzino praticamente non era un terzino quindi ragazzi nel calcio di adesso almeno uno dei due terzini deve essere un'ala un'ex ala di Samui centrocampo e Cansello per me è un gran terzino sotto quell'aspetto a livello tecnico siccome è veramente non ha cioè ha pochi uguali siccome a livello proprio tecnico ha una grande visione di gioco si butta dentro ha imparato anche a buttarsi dentro a fare gli inserimenti a fare gol quindi quasi da un attaccante aggiunto quindi tanta roba il PSG ripeto squadra di figurine secondo me spero veramente tutto il male sportivo ovviamente al Paris Saint-Germain per le cose sono tutte e due società degli sceicchi però sinceramente per alcuni aspetti meno meno ma diciamo la squadra che mi sta meno sul culo è il City ma non perché c'è Guardiola perché comunque hanno speso tanto sì ma non speso tanto per giocatori di merda mentre l'altra parte hanno preso tre giocatori e pensano di vincere sempre così così io credo che dovessero affrontare un Bayern Monaco al completo loro non vedono palla secondo me i tre lì davanti per me non vedono palla poi potrò anche sbagliarmi e staremo a vedere io credo che la Juventus contro il PSG questa Juventus qua di merda contro questo PSG qua per me può passare il turno dovesse affrontarlo ve lo dico qua comunque detto questo ragazzi fatemi sapere la vostra ci vediamo nel prossimo video sempre comunque fino a fine forza Juventus e l'Inter non l'ho vista ha vinto 3-1 avevo pronosticato e azzardato l'1-1 dello Sheriff comunque l'Inter rimane terza e adesso si diceva tutto nelle prossime due giornate più che tre perché la terza di solito difficilmente poi si arriva lì però non si sa mai comunque le prossime due o tre giornate sarà tutto decisivo decisivo la Juventus domani deve mettere un'ipoteca seria sulla qualificazione vincendo saremo una delle poche che quasi ha la qualificazione in tasca quindi bisogna vincere a San Pietroburgo non me ne frega giustificazione no bisogna vincere punto fine ok detto questo fino a fine forza Juventus buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti